Buonasera a tutti, io mi chiamo Cristina, sono di Seveso, faccio l'insegnante. Vengo tutti gli anni all'Expo perché la trovo una bella manifestazione, anche divertente e spero che anche voi vi stiate divertendo. Ci sono tante occasioni, ci sono bancarelle tradizionali che vado a cercare tutti gli anni, ad esempio quella della pasticceria siciliana che mi piace da morire e poi curioso sempre un po' qua e là. Ciao a tutti, buonanotte!